Se questo caos continuerà, saranno cancellati anni di pace. Ho cercato nella mia anima una soluzione. E la soluzione siete voi. Samurai, siete pronti a morire? Sì! 13 uomini non ne sconfiggeranno 200. Siete voi il signore di Akashi? Dovete ucciderli! Uccideteli tutti! Siete voi! Siete voi! Siete voi! Siete voi! Siete voi! Siete voi!